5 auto e un furgone di marca Renault. Sono i primi mezzi elettrici che entrano a far parte del parco macchine del comune e che verranno utilizzati dai servizi dell'aria e infrastrutture civili. L'iniziativa è stata presentata ufficialmente ieri a Bologna con l'esposizione di una quarantina di veicoli elettrici in piazza Renzo in Beni. Erano presenti il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, gli Assessori Costa e Donini. Per il Comune di Ravenna erano presenti gli Assessori della Mobilità Roberto Fagnani e all'Ambiente Guido Guerrieri. Sono azioni concrete per il miglioramento e la qualità dell'aria, hanno affermato gli Assessori Ravennati. Questi veicoli elettrici vogliono anche rappresentare un esempio da seguire. Compiamo dunque un passo avanti a favore della mobilità sostenibile e della qualità dell'aria che respiriamo poiché i mezzi elettrici non inquinano e contribuiscono a ridurre le polveri sottili nocive alla salute. L'acquisizione si è potuta realizzare grazie alla Regione che con uno stanziamento complessivo di circa 2,4 milioni di euro ha finanziato interamente l'acquisto di 103 veicoli tra auto, autocarri van, autocarri combi. Per i 15 comuni aderenti all'accordo di qualità dell'aria 2012-2015, Bertinor, Bologna, Carpi, Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Forlimpopoli, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.